Valerio Derubeis, sei responsabile della piattaforma e-commerce CronoShop. Che cos'è CronoShop? CronoShop è una realtà italiana che lavora dal 2008 nell'ambito del commercio elettronico. Siamo una delle prime tre realtà del nostro settore. Ogni anno, con più di 500 spedizioni al mese, accontentiamo circa 5.000 clienti. Abbiamo un catalogo che nel tempo si è sviluppato, arrivando oggi a oltre 20.000 prodotti. Trattiamo alcuni dei più importanti marchi del settore, tra cui sicuramente Tissot, Casio, Everard, Lockman, Braille. Tra questi prodotti che hai nominato, quali si avvicinano di più al mare e ai valori del mare? Sicuramente c'è un legame molto forte tra il mondo dell'orloggeria e quello dei velisti e poi del mare più in generale. Tra quelli che noi trattiamo sicuramente i più coerenti abbiamo Lockman, che appunto essendo un marchio toscano nato sull'isola d'Elba ha nel mare il proprio DNA. Abbiamo Nautica, che con la nuova collezione di Timex Intelligence propone sul mercato orologi dotati non solo di bussola, indicatore delle maree, ma anche termometro e varie altre funzioni di utilizzo per i velisti. E poi abbiamo anche Casio, che con tutta la collezione ProTech dedica proprio un'intera linea di prodotti all'outdoor più in generale. O anche Tissot, che con alcune specifiche collezioni si avvicina molto al settore del mare. Quest'anno siete sponsor del 41esimo campionato invernale dell'Argentario. Che tipo di supporto avete dato a questo circolo? Abbiamo sponsorizzato questo evento mettendo in palio i premi per tutti i vincitori delle varie categorie. Abbiamo ritenuto che questo potesse essere un progetto pilota molto interessante per lo sviluppo di Cronoshop, per farsi conoscere e per promuoversi in tutto l'ambito dell'Argentario e del circolo sportivo. Avete il programma a nuove iniziative per questo circolo? Stiamo monitorando, vediamo quali saranno i primi riscontri da questa attività e speriamo di poter sponsorizzare in futuro nuovi eventi di questo tipo. E allora buon lavoro ed è il caso di dire buon vento. Grazie anche a tutti.